un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo dall'orto dal giardino dove quei frati si trattengono anche per ritagliarsi un momento di meditazione personale lo faceva lo stesso confratello illustre padre pio da pietrelcina oggi qui per raccontarvi una testimonianza condividere una testimonianza ecco vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove inviare le vostre i vostri messaggi le vostre lettere le vostre i vostri racconti come ad esempio ha fatto antonella ma antonella ci ha raccontato che il suo pc era un po mal ridotto quindi ha preferito il vecchio sistema ecco carta penna e ha inviato una lettera vi anticipo che ci sono tante mail ci sono tante lettere un po la volta le leggeremo tutte antonella ci ha anche inviato una 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 cartolina dalla madonna di rosa dal santuario della madonna di rosa di san vito al tagliamento in provincia di pordenone antonella ci racconta che in questo periodo triste che abbiamo abbiamo tutti quanti noi vissuto ha perso il papà e si ricollegava ad un momento particolare quando noi raccontavamo con un minuto con padre pio del grande profumo che in tanti avvertono di padre pio infatti lei ci ha scritto il giorno in cui noi parlavamo di profumo di violette un fiore a me molto caro dedicato alla primavera allora volevo narrarle di quanto l'avverti proprio tanti anni fa vicino al letto di mio padre si era operato agli occhi di cataratta con buon esito ha subito collegato questa manifestazione ad un segno profondo della presenza di padre pio mio padre scrive antonella è stato un uomo tenero amorevole dedito al lavoro molto mite ha fatto con mia madre due viaggi all'urdo uno a meggiugoria in quest'ultimo ha riscoperto anche la grande presenza di maria erigendo una grotta con la statuetta acquisita dove a me piace recitare il rosario in questi tempi in cui l'avversario è molto forte quest'arma sembra essere l'unica la sola per poterci difendere come ci ha insegnato lo stesso padre pio spero che attraverso questa lettera lei possa condividere questa questa mia testimonianza con tanti affinché possano ritrovare la fede allora una cartolina che arriva da questo santuario di questa di questa madonna e poi conclude questa testimonianza la signora antonella questa testimonianza che voglio condividere con voi ecco anche con la figura del papà e quindi il nostro pensiero va anche a tutti coloro che hanno perso i loro familiari in questo periodo triste che abbiamo affrontato e da cui stiamo uscendo un po alla volta il signore grande ha potuto constatare che vuole guarire e vederci tutti felici